Ciao, vuoi diventare anche tu un pilota di droni? E non stai riuscendo a superare il test di ENAC? Abbiamo pensato proprio a te! Abbiamo realizzato una piattaforma semplice, veloce, intuitiva, con tantissime video lezioni. Testi in ogni lezione ed un test finale da 40 domande. Il tutto per prepararti al meglio. Salta a bordo! E vai! Grazie Arial Street!